Siamo con il dottor Domenico Delia che guida il reparto di ecografia della Lilt qui a Siena. Dottore, un reparto importante come sempre, professionalità, mezzi d'avanguardia che fanno parte del DNA della Lilt da sempre, ci fa un po' un'introduzione generale? Sì, allora in questo dipartimento ci occupiamo appunto di un servizio ecografico che viene svolto tutti i giorni della settimana. Variamo da esami di tipo tagliando con ecografia dell'addome, ecografia della tiroide e poi facciamo tutti i tipi di esami dai tessuti molli alle ecografie osteoarticolari, anche ai dopper dei vasi del collo e anche degli arti superiori e degli arti inferiori. Ci avvaliamo di mezzi sempre all'avanguardia, vengono cambiati quasi ogni anno, ogni due anni, introduciamo sempre delle nuove tecniche per non rimanere indietro e per far sempre un servizio che sia utile all'utente che afferisce qui alla Lega Tumori. La prevenzione da sempre è il mantra della Lilt, quali sono i consigli di prevenzione che sul suo dipartimento si sente di condividere? I consigli di prevenzione sono molto semplici, nel senso che dobbiamo avere cura di noi stessi e approfittare di queste strutture come la nostra per avere un po' il punto della situazione del nostro corpo. Abbiamo vari pacchetti che possono in qualche modo darci un'idea della nostra condizione di salute e da qui poi possiamo avere uno spunto per avere dei suggerimenti, per andare incontro a delle visite specialistiche che facciamo sempre qui all'interno della struttura per avere ulteriori consigli e avere cura di se stessi guardando al futuro. La tipologia di esame più comune che viene fatto nel Dipartimento qual è? Ve ne sono tante, quella più comune è senza dubbio il nostro pacchetto di punta che prevede in questo senso una ecografia dell'addome completo e una ecografia della tiroide. Spesso possiamo trovare dei piccoli nodoli tiroidei che sono comunque nella maggior parte dei casi una patologia benigna, però comunque il paziente che viene qui non sa di avere niente perché spesso non hanno una manifestazione clinica ben precisa e a questo punto lo introduciamo in un percorso magari con il nostro consulente endocrinologico per avere una voglia di guardare queste cosine anche un po' più a lungo e non perdersi di vista niente in questo senso. Poi l'ecografia dell'addome ovviamente ci dà una condizione veramente, è un po' lo specchio del nostro stato di salute del corpo perché studiamo organi come il fegato, come i reni che danno delle notizie importanti che possono cambiare il nostro stile di vita, quindi questa è una cosa molto importante. Ci sono delle soglie d'età in cui è preferibile fare questo tipo di controllo, ad esempio nell'ambito del seno c'è la soglia dei 40 anni, in questo ambito? In questo ambito non c'è una soglia d'età, parte tutto da un discorso di volere bene a se stessi e aver cura di se stessi, quindi facciamo questi tagliandi, questi pacchetti da ragazzi che hanno 30 anni che hanno voglia comunque di avere qualche informazione in più, a persone più adulte che magari già lo fanno, lo fanno magari con cadenza di ogni anno, con cadenza biennale e lo fanno proprio per chi hanno interesse ad avere delle informazioni sul proprio corpo, sul proprio stato di salute e quindi è uno spettro molto ampio di età, quindi non c'è un'indicazione ben precisa. È un voler bene a se stessi. Ultima domanda per quanto riguarda i macchinari, qui alle sue spalle ne vediamo uno, sono macchinari ovviamente di ultima generazione, ce le racconta? Sì, abbiamo dei macchinari come ho detto prima che vengono rinnovati molto presto, diciamo così, nel senso che comunque abbiamo sempre dei contatti con i fornitori per cui ci portano sempre delle novità, qui abbiamo tutti questi strumenti che dispongono di vari tipi di sonde che ci servono per studiare vari distretti corporei e fondamentalmente da questo punto di vista tecnico non ci manca niente e quindi possiamo fornire all'utente che accede alla Lega una serie di prestazioni che una volta uscito da qui si può ritenere soddisfatto.